Allora, il secondo esercizio è il seguente. Avete una bella spiretta quadrata, eccola qua, in cui scorre corrente. Questa volta la Divina Grazia ha voluto che sapessimo già da che parte scorre la corrente e va così. Sappiamo anche il lato della spiretta che è 0,50 metri su 50 centimetri. Ok, questa spira viene tirata, quindi si muove in orizzontale, alla velocità di 10 metri al secondo. Ok, ripeto, la spira è tirata verso destra e questa cosa è importante. Poco più in là comincia il campo minato. C'è una regione con un fantastico campo magnetico. Quindi questo coso qua è B. Per chi ha ancora delle difficoltà emozionali con sta roba, ricordatevi, le X vuol dire che state vedendo il sedere del campo magnetico. Quindi sta entrando nello schermo, ok? Perpendicolare allo schermo entrante. Se vedete i cerchiolini, state vedendo la punta del naso del campo che vi viene addosso. Ok. Buono, sto campo vale 3 Tesla. Ok, nella spiretta c'è una resistenza di 4 Ohm. Ok. Ci viene chiesto cosa accade alla corrente quando la spira entra nel campo. Perché ho insistito tanto sulla questione? La spira è tirata. Questa piccola parolina qua è fondamentale perché vi sta dicendo che Orni Pinco, buon pomeriggio a te. Grazie di esserti unito a noi. Quindi il fatto che la spira sia tirata vuol dire che viaggerà sempre e comunque a 10 metri al secondo. E uno dice, e grazie al cavolo andava a 10 metri al secondo perché mai dovrebbe cambiare? Dovete abbandonare ogni sicurezza sulla vita. Se non fosse tirata ma la lanciaste, la sparaste semplicemente dentro il campo non resterebbe a 10 metri al secondo. Poi magari vediamo anche perché. Però per noi lei viaggia a 10 metri al secondo fisso. Ok, questa cosa è fondamentale. Che cosa accade alla I? Lo possiamo dire subito. Nel momento in cui la spira entra nel campo ci sarà una variazione del flusso. Perché? Qua ve lo faccio vedere se riesco anche in modo vagamente animato. Ok, vediamo i potenti strumenti grafici. Ecco qua. Guardate cosa succede. La spiretta comincia a muoversi, viaggia verso destra, così, 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 così. Ancora non le succede nulla, cioè lei si sta semplicemente spostando. Poi a un certo punto arriva in questa zona, da qui comincia la magia. Dal momento in cui il lato destro della spira entra nella zona campo minato, con il campo magnetico, che cosa succede? L'area della spira all'interno del campo cambia. Cioè, fino a qui non c'è niente della spira che sta dentro il campo. Da qua in avanti un pochino dell'area della spira entra nel campo magnetico. quest'area aumenta, 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 aumenta fino a qua. Perché aumenta fino a qua? Perché poi la spira è entrata tutta e l'area all'interno è sempre la stessa. Quindi c'è un intervallo di tempo in cui l'area della spira, quindi da qui fino a qui, l'area della spira aumenta. Qua vi deve già suonare una campanella in testa. L'area sta aumentando, tradotto il flusso del campo magnetico sta aumentando. Quindi, da qui, ripeto, da qui a qui, avete una variazione del flusso del campo. Da qui in poi, cioè finché poi la spira continua a viaggiare per i fatti suoi, non succede più nulla. Non c'è più variazione di flusso. L'area all'interno del campo è sempre lei, il flusso non cambia più. Quindi il flusso non cambia prima. Qua non cambia. Non cambia dopo, cambia soltanto in questa parte a cavallo, tra fuori e dentro il campo. Rimettiamo la spira nel punto di partenza. Ok. Come sfrutto questa informazione? Io posso dire, perfetto. Allora, so che, quindi, so che il flusso del campo attraverso la spira cambia mentre la spira entra nel campo. Quindi avrò un flusso finale, un flusso iniziale. Quindi, oh, chissà cosa sta per succedere. Non è che per caso dobbiamo usare l'unica formula di questo capitolo. delta v uguale a meno delta phi su delta t. Perché ho usato la formula col delta e non quella con la derivata? Perché ho delle informazioni che mi permettono di ricavare qualcosa sul flusso finale e sul flusso iniziale. Quindi posso usare questa qua. Quello che facciamo adesso è scriverci meglio questo delta phi, fondamentalmente. Questo è il nostro obiettivo della giornata. Quindi questo è flusso finale meno flusso iniziale. Cosa vuol dire flusso finale meno flusso iniziale? vuol dire area finale per b finale coseno di teta finale meno area iniziale b iniziale coseno di teta iniziale. Così siamo proprio il più completi possibile. Ora, come prima, come nell'esercizio precedente, per chi non c'era, l'idea è che non ha senso distinguere b finale e b iniziale, nel senso che il campo magnetico è sempre lui. Sono sempre tre tesla, chi se ne frega di quando stiamo guardando il problema. Quindi b lo chiamiamo semplicemente b e tanti saluti. Idem teta, cioè teta è l'angolo tra il campo e la spira, ed è sempre, tecnicamente, l'angolo tra il campo e la perpendicolare alla spira, ed è sempre uguale. Cioè il coseno di teta vale sempre 1, perché i due sono perpendicolari. È l'area no invece, qua c'è la fregatura, quindi i due teta diventano teta. Perché l'area cambia? Perché per noi l'area iniziale è l'area nel momento in cui la spira entra nel campo. Quindi area quando la spira inizia a entrare. Occhio che non è l'area della spira, è l'area della spira nel campo. Ok, quando la spira inizia a entrare. Mentre AF è l'area quando la spira è tutta entrata nel campo. La spira tutta nel campo. Perdonate l'italiano ragazzi anche poco preciso, è perché almeno devo scrivere meno roba e riuscite magari a starmi un po' meglio dietro. Spero si capisca, cerco di rimanere sul, come dire, sui concetti essenziali. Ok. Quanto valgono queste due aree? Allora, l'area iniziale è semplice, è 0. Perché? L'area quando la spira inizia a entrare nel campo, quant'è? Beh, quando la spira inizia a entrare nel campo, diciamo che ve la disegno un attimino qua di fianco. Praticamente la spira è qui, sta entrando nel campo, però l'area all'interno è ancora tecnicamente 0. Quindi questa qua vale 0. L'area quando la spira è tutta nel campo, beh, questa è l'area della spira. Perché la spira è arrivata qui, ha scavalcato la zona di confine, ora è tutta dentro. Di conseguenza ho quella iniziale 0, quella finale che è uguale all'area della spira e di conseguenza è l'area del quadrato L alla seconda. Ok. Quindi il nostro Δφ si può scrivere senza grossi problemi ed è al posto dell'area finale, quindi ci va, un fantastico L quadro, ok, per B, θ vale 0, quindi il coseno vale 1, mentre il pezzo iniziale vale tutto 0, quindi L alla seconda per B. Facile. ΔT. Prima di procedere con ΔT ragazzi, un paio di reminder, prima roba se non siete iscritti vi dovete iscrivere istantaneamente. Seconda cosa, spammate queste live a manetta, i vostri compagni di classe, di banco, le altre classi, se siete al liceo dite tutte le quinte, se siete all'università fate girare tutto sul gruppo Whatsapp che sicuramente avete. Mi raccomando fate sapere a un bel po' di gente che ci sono, che c'è questa possibilità, ok, sono gratuite, libere, aperte per tutti, quindi non dovete pagare niente per poterle seguire. Poi se qualcuno vuole, vi ricordo, c'è la possibilità di riscattare una live personale, cioè vi mettete assieme e fate una bella colletta di classe, ok, ci mettete due euro a testa se siete abbastanza persone, quindi non spendete nulla e potete riscattare una live personalizzata di un'ora e mezza, cioè voi mi scrivete e mi dite vogliamo fare questa lezione dove fai questi esercizi trattando questo argomento perché tutti quanti non abbiamo capito una ceppa, abbiamo l'esame, abbiamo la verifica e lo facciamo, ci mettiamo d'accordo rapidamente e almeno avete un'ora e mezza praticamente di ripetizioni che non sono ripetizioni a costo quasi zero, ok, se preferite andate da un professore e spendete 40 euro all'ora, scelta vostra. Allora, ovviamente ragazzi fate quello che volete, vi voglio bene, se volete sostenere il canale a me basta che guardate le live e che seguite youtube, per me già quello è tantissimo. Tornando a noi, delta t, chi è delta t? Delta t è il tempo che la spira impiega per entrare nel campo. Grazie titan, sei sempre in the heart per entrare nel campo. Ok, occhio, questa roba qua ragazzi non vuol dire che delta t è il tempo da quando la spira è qui a quando è che ne so qua. No, nel senso che è il tempo che ci mette solo a passare da questo punto qui, quindi appena prima di entrare, a appena dopo che è entrata. Quindi è l'intervallo di tempo che distanzia questi due eventi. Perché devo specificare questa cosa? Perché io il flusso sopra il delta t l'ho calcolato in questi due momenti, cioè per me il flusso iniziale era la spira nella posizione rossa, il flusso finale è la spira nella posizione verde e quindi delta t è il tempo tra questi due momenti. Occhio a sta roba qua, perché a volte uno non capisce qual è l'arco di tempo che sta guardando nel problema. Allora, quanto è questo delta t? Perché adesso è tutto molto bello ma me lo devo calcolare in qualche modo, devo scrivere qualcosa per questo delta t. E qua arriva il truccone, ragazzi. Allora, questa roba deve attraversare questa linea di confine e passare dall'altra parte. Quanto tempo ci impiega? Beh, io so che sta andando a 10 metri al secondo. E so quanto è lunga la spira, cioè quanto è lungo il lato. Prendiamo soltanto un punto specifico sulla spira e guardiamo lui, così ci facciamo un'idea più precisa. Quindi questa è la spira, guardiamo questo punto rosso qua. Questo punto rosso all'istante iniziale è lì dove si trova l'istante finale. Quando la spira ha oltrepassato tutto è qua. Quindi il puntino rosso si è fatto questa strada. È passato da quel punto a quell'altro, quindi dal punto iniziale al punto finale. Quanto è lunga la strada che ha fatto quel punto? È lunga l. La lunghezza è la spira, no? Perché una volta che il puntino rosso ha oltrepassato dall'altra parte ed è entrato nella zona di campo, si è fatto quella lunghezza lì. Quindi io so quanta strada ha fatto e so con che velocità si è mosso. E qua deve venire l'illuminazione. Io so che la velocità è la distanza percorsa fratto il tempo. Cioè io so che la spira si muove a 10 metri al secondo, il puntino rosso fa una distanza di L in delta T, quindi questo D in realtà è L fratto delta T, di conseguenza delta T, se invertite la formula, è L fratto V. Eccolo qua. Quindi vado sotto, questa roba è L fratto V. morale della favola e abbiamo praticamente finito. Il delta V, la differenza di potenziale prodotta nel circuito, quindi è, alla fine dei conti, L quadro B fratto L fratto V, con un bel meno davanti, e quindi meno L B, V. Questo è il vostro delta V. Quindi cosa vuol dire? Questo è, da livello matematico, il risultato. Cosa voglia dire a livello fisico? Dobbiamo un attimo ragionarci. L'idea è, mentre la spira scavalca il confine con il campo minato ed entra nella zona di campo magnetico, si crea un delta V all'interno della spira. Questo delta V dipende da quanto è forte il campo, quanto va veloce la spira e quanto è grossa. Fondamentalmente questo vi sta dicendo la formula. Dopodiché la domanda, in modo più stretto, non era che cosa succeda al delta V, ma che cosa succeda alla corrente. Però, qua, di nuovo, noi sappiamo che in realtà delta V, per la legge di Ohm, è I per R. Quindi, in realtà, voi potete tradurre tutta questa roba che abbiamo appena scoperto in I per R uguale a meno L B, V. E quindi la corrente è meno L B, V fratto R. Cioè, all'interno della spira si crea una corrente meno L, B, V fratto R, mentre la spira scavalca. E qua casca l'asino. Questa I, occhio, non è la I... Esatto, ecco, questa I non è la I in viola. Quella I che c'era là era già presente e rimane. Questa è un'altra I ed è una corrente indotta. Cioè, è la corrente famosa che si crea in aggiunta per il semplice fatto che sta cambiando il flusso del campo. Ok? Quindi, questa è I indotta. Quindi ci sono due correnti. C'è la I viola, che è quella di base, e questa I indotta che si crea solo per via della legge di Faraday Neumann. Da che parte gira questa corrente? È il discorso di prima. Cioè, non c'entra niente con i calcoli. Qua bisogna ragionare proprio sul disegno. Il flusso in questo caso aumenta in ingresso al foglio. Cioè, cosa vuol dire? L'aspira sta passando da una condizione dove inizialmente il flusso è zero. Scusate, mi stava morendo la voce. Ha una condizione in cui il flusso non è zero. Qua, per essere proprio precisi, bisognerebbe dire che il flusso in dotta non è negativa, giusto? Mettevo un segno. Sì, sì, sì. Infatti, adesso poi, infatti, volevo specificarvi questa roba. Qua, per essere proprio pignoli, bisognerebbe dire che il flusso finale è negativo. Io per adesso vi dico solo che è diverso da zero perché penso che se no sia una roba troppo confusionaria. L'idea è la seguente. Il flusso è aumentato in ingresso al foglio. Cioè, ci sono state sempre più linee di campo man mano che la spiera si spostava verso destra che stavano all'interno della spiera. Cioè, anche qua, magari cominciamo a cancellare un po' di roba così ci facciamo un po' di spazio. Vi rifaccio i due disegni. Ok. All'inizio non c'erano linee di campo. Alla fine ci sono delle linee di campo all'interno. Quindi, la corrente indotta, quella che si crea in aggiunta a quella viola, deve controbilanciare questo effetto. Cioè, deve creare un campo che invece aumenti il flusso in uscita. Di conseguenza, si deve creare un campo indotto fatto così, che controbilancia quello che sta comparendo all'interno della spiera. Come deve girare la corrente per creare un campo del genere? Linea della mano destra. Questa deve essere la corrente indotta. Cioè, deve girare in senso anti-orario. Quindi, morale della favola, finalmente per rispondere in modo corretto alla domanda che ci aveva posto il problema, la corrente nell'aspira diminuisce leggermente mentre lei entra nel campo. Perché diminuisce? Perché la corrente originale girava in senso orario, mentre entra nel campo se ne crea una contraria in senso anti-orario e quindi, al netto, alla fine dei conti, abbiamo una corrente che si stabilizza risultando leggermente più piccola di quella iniziale. Nel momento in cui la spira è dentro il campo completamente, la indotta sparisce e ritorna la corrente viola di partenza. Ok? Questo è. Comunque, ragazzi, la cosa che voglio che vi portiate a casa da tutto ciò è quando vi chiedono come girano le correnti non serve fare calcoli. Lì bisogna solo ragionare su che cosa succede. Se invece vi chiedono concretamente di far vedere a livello di formule quanto vale una corrente, eccetera, eccetera, allora si usa la legge. Ok? La questione del meno che menzionava anche Titan in chat questo meno qui. Ok? Il meno è quella cosa che lega i due concetti. Cioè vi ricorda il fatto che la i deve opporsi a questa creazione del... a questo aumento del flusso o diminuzione del flusso a seconda dei casi. Poi, a livello di calcoli, se voi dovete dare un risultato numerico, cioè se io vi chiedo calcolami la i indotta del meno chi se ne frega. Cioè se io adesso dovessi procedere e fare un bel calcolone finale, diciamo, vabbè, tanto qua non ci serve più, possiamo anche togliere. Ok. Se io adesso devo calcolarmi la i indotta, quello che faccio è prendere tutti i valori, quindi L che valeva 0,50 metri, B che perdonatemi l'ho cancellato ma valeva 3 tesla, V che era 10 metri al secondo fratto la resistenza che sono 4 ohm, questo è il valore della corrente indotta, ok, che dovrebbe fare, già, per questa volta sono buono, vi faccio anche i calcoli, dovrebbe uscire 3,8 ampere circa, approssimando un attimo, grazie, 3,75 esatto, chi se ne frega del meno, nel senso che una corrente tecnicamente la esprimo sempre come un valore positivo, cosa vuol dire se lo lascio il meno, cioè cosa vuol dire meno 3,8, vuol dire che è una corrente che si oppone alla variazione del flusso, ma chi se ne frega, la corrente vale 3,8 ampere, ok, allora, ragazzi, vado a prendere un po' d'acqua perché mi sta morendo la gola, ma ritorno da voi tra pochissimo, cioè a tempo due minuti, nel frattempo magari, vi lascio il testo del prossimo esercizio, così ve lo cominciate a guardare, se per caso qualcuno vuole provare a ragionarci sopra un attimo per i fatti suoi, almeno si porta avanti, ok, e poi mi dite un po' cosa ne pensate di questa roba, guardate che lo trovo, eccolo qua, ciao a tutti, ciao a tutti, Grazie a tutti